Bene, completiamo la simulazione in Java con EJS sul moto di caduta della barra in campo magnetico riapriamo la cartella EJS 5.3 e clicchiamo sulla console.jar si apre qui, clicchiamo ok, non vogliamo aggiornare niente si apre il nostro pannello di lavoro che ovviamente appare bianco senza nessun file inattivo per aprire un file già creato è sufficiente andare sulla barra dei comandi di destra e cliccare sulla seconda icona, apri un file che già esiste ci apre la cartella source dove ci sono i lavori in corso andiamo su quello che abbiamo creato l'altra volta a moto della barra nel campo magnetico EJS ok, clicchiamo su questo, ci riapre e ritroviamo il lavoro svolto fino al punto in cui eravamo arrivati l'altra volta mancavano un paio di passi importanti in una simulazione è sempre importante avere sotto mano e visualizzati i parametri fisici in corso quelli che ci interessano nel nostro caso saranno il campo magnetico, il tempo sicuramente, la posizione della barra, la sua velocità e la sua accelerazione ok, per far questo, quindi le grandezze che avevamo inserito nella prima pagina dell'area model visualizzeremo T, Y, VY, eventualmente anche AY e poi in un'altra barra metteremo il resto delle variabili che possiamo modificare andiamo su view creiamo un altro pannello nella zona interfaccia, la seconda icona è quella dei pannelli prendiamo non il primo, ma il terzo il terzo simbolo che sta a indicare un pannello un pannello è un tenitore in realtà lo clicco una volta sposto il mouse su simulation view scusate, sul frame e scrivo pannello dati per esempio cioè i dati del sistema fisico in esame anche qui andiamo a cliccare sul pannello le dimensioni saranno anche qui 600 e 50 d'accordo, non border ma andiamo direttamente a metterci devo metterci dentro 4 grandezze quindi lo facciamo a griglia con una riga e 4 colonne qui verrà un pochettino più ordinato dopo fatto questo andiamo a inserire le grandezze che ci interessano qui non nel pannello pannelli ma in quello successivo quello dei bottoni e poi ancora un altro c'è quello di come farci visualizzare le grandezze dalla simulazione ok questa colla per il quadro con il numerino dentro selezioneremo questa qui che è il campo un field c'è un campo dove è possibile visualizzare e anche modificare una grandezza questo con il quadro questo con il quadro 2.0 selezionando questo una volta lo trascino col mouse dentro il pannello dati il primo sarà tempo chiederemo a questa simulazione di mostrarci T che valore ha doppio clic su questo la variabile è la T il formato è T 00.00 questi zeri non hanno nessun significato quantitativo danno solo il formato cioè ci mostrerà T uguale a un numero con due interi e due decimali ok e qui chiudiamo vedete che ho digitato invio e l'ha preso non c'è problema dopo il tempo sempre un altro field diciamo la posizione y doppio clic anche qui la variabile da mostrare è la y nel formato anche qui y uguale 00.00 due decimali possono essere sufficienti ripetiamo ancora per la velocità vy la variabile da visualizzare è vy nel formato sempre y uguale interi e due decimali e ultima era l'accelerazione a y anche qui la variabile è a y il formato ay uguale 00.00 ed è fatta ok salviamo mandiamo in esecuzione ok ci fa i complimenti dice che il programma non ha errori è in esecuzione dove partire ecco qui al solito abbiamo i nostri tasti comandi andiamo su play vediamo che mentre la simulazione va avanti abbiamo i dati di tempo posizione velocità e anche accelerazione ok questo è già un bene a questo aggiungiamo torniamo nell'area di lavoro clicco sul botone rosso perché ferma la simulazione per poterla modificare deve essere ferma ok adesso aggiungiamo tutta quella serie di parametri che sono utili a modificare il moto della nostra barra perché vi ricordate che la scala di tempo è data da una variabile tau che è legata al campo magnetico alla resistenza e alla lunghezza della barra ok quindi andiamo a mettere un altro pannello sempre nel nostro frame di pannello parametri chiamiamoli non so parametri della simulazione ok in questo caso sempre da field no ho sbagliato scusate lo rimuovo non ho messo un pannello ma avevo messo un altro field ok pannello parametri d'accordo? anche qui ci mettiamo dentro quindi la massa della barra la lunghezza il campo magnetico la resistenza è anche tau e sono 5 5 quindi andiamo a indicarlo non con border ma con una griglia con 5 colonne ok quindi andiamo sempre sui field il primo che mettiamo la massa M ok andiamo a indicarlo con M formato M uguale 00.00 che adesso mi pare che fosse 1 qui attenzione andiamo a cambiare rispetto a prima qui rendiamo questo campo editabile clicco su vero su editabile e inoltre vado ad aggiungere un'azione perché se cambierò il valore di M voglio che ricalcoli subito il valore di tau quindi vado a copiarmi la stringa dove abbiamo scritto il valore di tau eccola qui M per R diviso L B alla seconda e la re e la incollo qua dentro ecco in questo modo dopo che ho modificato la massa il software ricalcolerà il valore di tau lo aggiorna lo stesso farò per gli altri parametri mettiamo adesso la resistenza R questo è R formato R uguale 00.00 anche questo è editabile cioè è cambiabile e anche qua dentro mettiamo inseriamo il ricalcolo di tau aggiungiamo ancora cos'era B campo magnetico B e quindi B formato B uguale 0.00 editabile sì e azione ricalcola il valore di tau ok L noi lasciamo lo stare cambiamo mettiamo invece il calcolo di tau ok tau e qui arriviamo ok qui ci mostra tau questo non vogliamo cambiarlo invece da qua perché deve essere un risultato di un calcolo che fa il computer stesso ok salviamo riavviamo ok partito adesso se vedete qui se vado su y io non posso cambiare y ok non mi permette di cambiare invece posso cambiare per esempio il valore della massa se anziché mettere 1 metto 2 ecco che ha cambiato 2 la massa 2 e tau è di 2 secondi ok se adesso mando in esecuzione il programma vedete che la scala di tempo su cui si rallenta è molto più piccola che rallenta molto più lentamente invece metto mezzo chilogrammo quindi 0.5 tau e 0.5 adesso il frenamento è più intenso perché l'effetto dell'attrito è più forte l'effetto del campo dell'induzione elettromagnetica ok lo vedremo questo meglio tra un secondo quando andiamo a inserire una una la finestra con i grafici ok mettiamo nel torniamo nell'area di lavoro e oltre ad avere il valore numerico di y y y y y chiediamo al software di farci anche un vero e proprio grafico cioè apriamo un pannello una finestra con i grafici per far questo torniamo nella zona interfaccia clicchiamo sulla seconda opzione e mettiamo una finestra di dialogo cioè non un frame che era il primo ma il secondo questo vado a cliccare una volta la seleziona lo posiziono nella simulation deve essere un view perché non voglio che sia dentro il pannello grafico ma deve essere un pannello proprio a parte e lo chiamo grafici per esempio ok lui me lo mette qui io lo riposiziono per esempio in questa posizione che sia a fianco del pannello principale lo faccio un poco più grande quindi in x sempre 600 ok e in y altrettanto come prima facciamo quadrato d'accordo ecco adesso nel pannello grafici andremo a mettere i tre grafici per ogni grafico grafico serve un ambiente che lo raccolga quindi sempre nel menu interfaccia vado a selezionare il 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 plotting panel il primo il drawing panel ci serve per disegnare per inserire oggetti grafici qualsiasi il plotting panel invece è più adatto a inserire grafici cioè rappresentazione del legame tra variabili diverse quindi clicco il secondo opzione c'è la penultima in realtà della seconda riga vado a portarla nel menu grafici clicco una volta e lo chiamerò che ne so posizione posizione in y ok lo mettiamo a sinistra no in alto si in alto ok doppio clic su posizione su questo elemento e anche qui il il mi si apre la cartella con le sue caratteristiche ok e che cosa che cosa andiamo a cambiare di questo beh in realtà cambiamo abbastanza poco andiamo a dargli un titolo al grafico per esempio il titolo posizione y va bene ok poi il titolo dell'asse delle x è tempo ok quello dell'asse delle y è y e basta e andiamo a selezionare un colore per esempio potrebbe essere lo vedremo dopo adesso lasciamo così adesso andiamo a dire di tracciare il grafico vero e proprio perché questo se volete questo contenitore tiene dentro gli assi cartesiani del nostro grafico ok andiamo invece a inserirci inserirvi la traccia che appartiene ai tracciabili 2d quindi la seconda zona degli oggetti che EJS ci propone e che è proprio l'ultimo dell'ultima riga ok seleziono questo questa specie di riga seghettata in crescita lo posiziono dentro il pannello grafico e lo chiamo y se lo chiamerai y2 perché già un y non l'ha messo non fa niente doppio clic si apre le proprietà l'input x l'ascissa nel nostro grafico è t in alcissa abbiamo il tempo in ordinata la coordinata y d'accordo ecco qui andiamo a mettere il colore il colore che ne so potremmo mettere un rosso ok e uno spessore della riga 3 che si veda meglio ok va bene fatto questo abbiamo chiuso mettiamo il secondo grafico quindi il secondo pannello grafico questo lo chiameremo velocità ok mettiamo il centro va bene in questo anche andiamo a cliccare il titolo in x tempo in y e vy ok detto questo qui possiamo chiudere selezioniamo la traccia andiamo a mettere dentro il il protein pannello la velocità la traccia si chiama vy doppio clic su traccia ancora una volta la variabile indipendente la x e t quella inordinata è vy ok il colore della traccia per la velocità potremmo farlo in blu questo qua ecco per esempio viola e è un po' rafforzato un spessore 3 va bene ultimo grafico andiamo ad aggiungere un altro pannello grafico accelerazione quindi va bene traccia dell'accelerazione a y anche qui vi manderei editarlo scusate ecco tempo e accelerazione ok sulla traccia t in ascissa a y inordinata il colore della traccia per l'accelerazione cosa possiamo mettere un blu blu scuro è sempre 3 ok ed è fatta ok salviamo andiamo in esecuzione perché ne ho messo solo due proviamo a mettere un poco più grande allora anziché i bordi facciamo vertical box ok proviamo così ecco gli altri tre grafici adesso andiamo in play vediamo che ci appaiono le leggi orarie sia della posizione quella in rosso dell'accelerazione che in blu in fondo e della velocità in metà vedete che qui la scala di tempo in cui avviene il il rallentamento della velocità è di un secondo se andiamo a aumentare per esempio il campo magnetico da 1 a 2 ok il tau si riduce di un quarto ovviamente perché torniamo all'inizio ecco perché tau è proporzionale a b alla seconda adesso in questo caso il rallentamento si fa sentire molto di più vedete che nel tempo in cui la barra cade il l'accelerazione raggiunge il valore zero quindi il moto è uniforme la velocità si attesta alla velocità di asintotica di caduta quindi qui in questo caso l'effetto elettromagnetico l'effetto della forza magnetica è molto più rapido a effetto molto prima in sostanza e qui nella posizione della legge oraria c'è un piccolo tratto dove il moto è accelerato e poi il moto è praticamente un moto di caduta a reti mini uniformi ok possiamo anche vedere un fatto intermedio quindi il suo tavolo è un quarto se andiamo a cambiare anziché b cambiamo che ne so la massa mettiamo mezzo chilogrammo allora in un tempo di un mezzo e quindi la caduta è anche lì frenata in tempi brevi però con un tempo doppio rispetto al precedente ancora una cosa che possiamo fare e poi concludiamo è questo interrompiamo l'esecuzione del programma andiamo a mettere una una spunta per selezionare il fatto che i grafici siano visibili o meno possiamo anche dire i grafici non vogliamo vederli oppure sì vogliamo vederli allora per far questo andiamo a modificare il menu il pannello comandi inseriamo una colonna in più e in questa colonna andiamo a inserire una spunta un checkbox quindi inseriamo qua dentro nel pannello comandi e mostriamo mostra grafici la chiamiamo così per mostra grafici cosa intendiamo fare a cui ho sbagliato c'è una y in più andremo a inserire una variabile logica cioè vero o falso e chiederemo al grafico a java di mostrarci il pannello grafici solo se questa variabile è al valore zero quindi torniamo in model inseriamo nelle variabili iniziali una variabile logica chiamiamola showplot che inizialmente la sentiamo come falsa ed è di tipo boolean cioè di tipo logico boolean significa vero o falso mentre double sono le variabili con la virgola ok a questo punto andiamo su mostra grafici doppio clic e associamo questo checkbox alla variabile logica showplot e la mettiamo come non selezionata quindi inizialmente è falso e il testo è mostra grafici e l'azione qui seleziamo azioni diverse se il il checkbox è selezionato quindi action on sarà showplot uguale a vero quindi attribuisce il valore vero a showplot se invece non è selezionato attribuisce a showplot il valore falso ok e e quindi andiamo sul pannello su finestra di dialogo grafici qui quando invece che scrivere visible true cioè il fatto che fosse sempre comunque visibile cambiamo questa e andiamo a mettere qui la variabile logica showplot quindi questo è visibile a seconda che showplot sia selezionato oppure no salviamo ricompiliamo ecco che si apre la nostra finestra e la variabile il pannello grafici non si vede lo si vede solo se selezioniamo mostra grafici in quel caso ce le mostra oppure ce ne nasconde ok lo ho visto cambiamo per esempio che è della resistenza mettiamo la 2 ecco qui andiamo in play qui lo smossamento sarà lento quindi sarà accelerato durante quasi tutto il suo moto ma infatti si vede che con una scala di tempo così lunga più lunga la scala di tempo più lentamente la variabile per esempio velocità si attesta il valore asintotico invece se cambiamo la resistenza e la la mettiamo alla metà 5 adesso abbiamo nello spazio di caduta la la velocità raggiunge ragionevolmente sul valore asintotico che è circa meno 5 e qualcosa mentre l'accelerazione va a 0 da meno 9 81 che era l'inizio ok eventualmente si può aggiungere un testo al pannello al pannello grafico si può aggiungere un titolo prendiamo questo e per far questo possiamo aggiungere per esempio prendiamo ecco un testo dai dei tracciabili 2D questo con la T grande e lo mettiamo dentro nel frame principale nel drawing panel ok mettiamo titolo e vedi che ci scrive la parola titolo già qua andiamo a modificarlo le posizioni x e y ci possono andare bene titolo scriviamo che ne so moto della barra ecco andiamo a cambiare le dimensioni in x o in y mettiamo che ne so l che è in y 2 più è troppo 1.5 e 1.4 possiamo spostarlo anche un poco più in alto finché non ci va bene ok qui si va per tentativi per prove finché non troviamo il punto dove ci interessa quindi per posizione x e y sono intese come il centro del testo mentre size x e size y sono le dimensioni in x e in y nel testo stesso questo direi che completa e chiude la simulazione adesso se vogliamo che la simulazione sia esportabile cioè sia visibile non solo il nostro computer cliccando sulla fraccina verde ma che ci crei un file che potremmo portare dappertutto è sufficiente cliccare su questo quello che sta sotto al mappamondo qui lo impacca dice package core simulation e quindi ci mette dentro tutto quello che serve crea un file .jar che si può usare dappertutto e ci lo mette nella cartella export diciamo salva gli dà lo stesso titolo se adesso torniamo sulla cartella ajs 5.3 apriamo workspace apriamo export e qui dentro abbiamo il nostro file creato da oggi questo qui che se chiudiamo la simulazione qui salviamo tutto e chiudiamo a simulazione chiusa doppio clic su questo file e la simulazione parte e così nello stesso modo partirebbe se la usassimo in un computer qualsiasi che abbia java ovviamente bene oggi mi fermo qui penso che abbiamo concluso questa parte vi ringrazio per l'attenzione che è